Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'allerta meteo gialla per il Piceno, emanata dalla protezione civile delle Marche per le prossime ore, mette in apprezzioni i residenti e i titolari delle attività commerciali di Via Toti a Porto d'Ascoli, che già si sono trovate a gestire situazioni di difficoltà nell'ultima bomba d'acqua che ha colpito la riviera. La strada si è trasformata in un fiume, nonostante i lavori svolti dalla CIP, con l'acqua che è di nuovo penetrata nei negozi, scatenando la reazione dei sercenti commerciali della Via, che temono che la situazione si ripeta nuovamente. Quel giovedì che ci siamo allagati, quindi due settimane fa, noi qui purtroppo abbiamo avuto quelle onde che entravano dentro alla mia attività. Una mia amica mi ha detto che su un messenger potevo contattare il sindaco e che mi avrebbe risposto. Devo dire che dopo dieci minuti mi ha risposto, è stato gentilissimo. Lo stesso messaggio di Capriotti l'ho girato a lui, chiedendogli che non è possibile che nessuno vieni a chiudere la strada, che i ditombini devono essere puliti regolarmente, che gli operatori ecologici e gli... Noi non li vediamo mai, ci dobbiamo pulire la strada per conto nostro, quindi i ditombini si intasano, chiedendo per quale motivo. Noi c'eravamo allagati, perché le pompe ci sono. Il sindaco è stato gentilissimo, per carità di Dio, però da un sindaco che mi risponde è di un problema della CIP, non mi puoi dire, penso che non abbiano funzionato le pompe. Che da sindaco, siccome tu sai che è un problema della CIP, chiami la CIP. Io sono ben disposta a pagare le tasse, ma le mie tasse devono portare dei servizi, cosa che purtroppo non abbiamo. Come domenica, quando sabato ha tirato il vento, mia madre ha dovuto pulire la strada prima che si attappassero tutti i tombini. Nel 1992, con le sondazioni del fiume Tronto, le attività della zona subirono gravissimi danni e la paura che una situazione del genere possa ripetersi è palpabile. Noi abbiamo dovuto rifare tutto. 64 giorni di chiusura e abbiamo rischiato la vita e non vogliamo riavere quell'esperienza perché quando ho visto le immagini di Su mi si è accaponata la pelle e mi ha riportato tutti i ricordi a galla e noi ora abbiamo fatto ricorso per il danno, perché quello era un errore umano, i nuovi giudici, e su questo non ci passo perché di vecchi avevano riconosciuto il danno e avevano incominciato a risarcire. Dopo più di dieci anni è stato fatto il ricorso. Per questi nuovi non meritiamo niente perché è andato in prestizione. Io dico il danno che abbiamo subito, che causa ancora del pavimento, con l'umidità, le mura, chi ce lo ripaga? Se si sono finiti i soldi gradiremmo che ce lo dicano in faccia.